Il sogno è tornare ai fasti del passato, quando la squadra femminile di Trani vinceva un campionato di calcio dietro l'altro. La Puglia Trani ci prova, tutte giovanissime le giocatrici, il futuro è qui, dicono alla vigilia del campionato di Serie B. Nata dalle ceneri della società Oratorio, si tratta di un progetto ambizioso. Esordio domenica con il Napoli al Comunale, l'avventura è appena cominciata. La città di Trani ha avuto sempre un forte legame col calcio femminile, ricordo il passato, ha vinto tre scudetti, una Coppa Italia, diversi torni internazionali, hanno giocato diversi calciatrici, ho cito di nome, la Morace, la Carta, l'Amzen, che hanno portato l'ustro al calcio femminile italiano. Ora c'è questa società che sta ripetendo il percorso iniziato nell'anno 80, domani inizio il campionato, formano in bocca al lupo alla società a Puglia Trani. Mi auguro che possa tornare a livello nazionale e portare con la visibilità di tutta la città di Trani. Partiamo da una Serie B nazionale dopo tanto tempo e ovviamente i risultati della Trani 80 sono irripetibili. Oggi pensare soltanto di poter avvicinare quella squadra è un sogno, ma ci proviamo, ci stiamo provando, ci crediamo e soprattutto puntiamo sulla crescita del movimento. La città merita e le ragazze sono determinate, noi abbiamo fatto il nostro, adesso vedremo il campo cosa dire.